Buongiorno a tutti, sono sempre Vittoraso Dantotto Allora, mentre parlo, è uscito da pochissimo il nuovo trailer di Ghostbusters Legacy che a me incuriosisce tantissimo quindi non vedo l'ora di guardarlo non so se questo video uscirà il giorno stesso che è uscito il trailer il giorno dopo non importa lo guardiamo, poi lo commentiamo sono veramente fomentato vediamo un po' ok, eccoli qua sei una brava madre non lo so con Trevor va bene Wolfhard nel frattempo è diventato un 45enne qua è ancora più piccolo lei è Igon al femminile piccolina se non sbaglio sono i nipoti se non ero non sai quanto ci vuole poco per farmi felice ma che bello oddio oddio ma era Janine oddio è l'unica che ha il motore ecco sì no vabbè ti prego la Ecto oddio no ma che spettacolo ragazzi questa città non è su una linea di faglia ma trema quotidianamente ah uh magari è l'apocalisse ma siamo drastici Igon è venuto qui per un motivo siete disturbati da strani ruoli oddio eccoli qui anche solo in video ecco i piccolini i mini puff oh ma ma è di nuovo Zul no come The Walking Dead no ma di chi stiamo parlando oddio vai 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 che spettacolo bellissimo bello dimmi di sì ti prego siamo chiusi oh allora ultimamente mi sbaglio con i nomi ho detto Zul ma volevo dire Gozer però vabbè avete capito mi sembra un trailer ottimo tra l'altro ti teaserano gli acchiappa fantasmi originali nel finale diciamo che da questo trailer mi sarei aspettato di vederli onestamente ancora non ce li mostrano magari non ce li mostrano fino a che non esce il film sarebbe un po' strana come cosa è anche vero che il film esce tra un po' probabilmente vogliono farci penare da questo punto di vista ma devo dire che ci ho visto tanto del passato ma tanto anche di nuovo e questo a me piace so che molti non sono convinti del fatto che vogliono fare un passaggio di testimone dipende come si fa questo passaggio di testimone abbiamo i due nipoti di Gon Spengler che secondo me potrebbero essere dei personaggi interessanti io credo che questo trailer dimostri che si può fare un Ghostbusters anche senza New York anche con un'ambientazione più rurale onestamente e la cosa mi sollucchera parecchio Paul Rudd come nuovo Ghostbusters adulto mi piace quindi vediamo che cosa succede sta di fatto che è un trailer che ha riacceso la mia infanzia io sono cresciuto con i due film sui Ghostbusters il Ghostbusters femminile era veramente dimenticabile secondo me non orribile come tutti dicevano ma sicuramente inutile niente da dire su quello anche se io trovo che nessun film sia realmente utile alla fine però quello era particolarmente privo di utilità se devo dire comunque sia mi piace il fatto che mostrino una sorta di slimer non so se sia proprio slimer perché è un po' diverso rispetto all'originale però è sicuramente un riferimento voglio capire il il villain il cattivo il fantasma chi è il fantasma a sconfiggere aveva un che di 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 gozeriano quindi magari è un altro gozeriano chi lo sa sta di fa anche perché comunque ci sono i mini paft il fatto che ci sia i mini paft mi fa pensare che c'entri per appunto gozer o un gozeriano in generale comunque chi se ne frega una roba del genere per cui sono curioso sono curioso hanno sicuramente la mia attenzione voglio capire cosa vogliono fare con questo nuovo con questa nuova versione del franchise perché è chiaro che vogliono cercare di prendere pubblico nuovo ma allo stesso tempo riportare in sale pubblico vecchio d'altronde il regista Jason Reitman figlio di Ivan Reitman regista dei due Ghostbusters originali sicuramente è uno che l'amore per i film originali ce l'ha essendo figlio di chi li ha creati non è detto al 100% che sia riuscito a fare qualcosa di buono per l'amore del cielo però le vibes che mi dà questo trailer sono proprio quelle di un film su Ghostbusters il fatto che vedano il vecchio video promozionale poi a un certo punto c'era a me sembrava direi che era Janine no? potrei sbagliarmi ma a me sembrava Janine direi che era lei comunque sia nel caso correggetemi se sbaglio qua nei commenti ma mi è parso proprio di sì quindi già il fatto che ci fosse l'amore è interessante mi sarebbe piaciuto vedere i tre Ghostbusters rimasti ancora in vita già in questo trailer qualcosa ci mostrano alla fine però vabbè fa niente sta di fatto che io personalmente vorrei vorrei vedere questo film il prima possibile quindi staremo a vedere uscirà tra qualche mese io ho delle buone aspettative non è che sono qui che penso sarà un capolavoro perché ho capito che non bisogna pensare questo anche perché non mi aspetto un capolavoro prima di tutto il capolavoro te lo dice il tempo se è un capolavoro mi aspetto un film che intrattenga che sia interessante punto non mi aspetto che sia un instant cult a me Finn Wolfhard peraltro convince l'attrice che interpreta la sorellina mi sembra convincentissima ed è tanto Egon questa cosa mi piace da impazzire vediamo cosa hanno intenzione di fare voglio vedere che cosa intendono fare speriamo speriamo perché sinceramente sarei sarei particolarmente contento se finalmente tirassero fuori dopo tanti anni un film su Ghostbusters che valga la pena di essere visto anche perché l'ultimo prodotto veramente notevole riguardo i Ghostbusters è il videogioco di tanti anni fa di cui abbiamo fatto anche una remastered quello era interessante quello mi era piaciuto tanto vediamo se riusciranno a fare qualcosa di degno con questo film non sarà semplice peraltro mi è sembrato di vedere uno dei guardiani che si vedevano nel primo film con le specie di cani demoniaci mi sbaglierò mi sembrava che fosse uno di quelli e se non era uno di quelli era molto simile quando c'è Porrad che scappa e si sfonda la porta vetri dell'edificio insomma tanti riferimenti al passato ma mi sembra che abbiamo cercato anche di fare qualcosa di nuovo l'idea della cittadina con il male che si annida nelle profondità fa tanto film per ragazzi anni 80 e mi sembra abbastanza chiaro che sia un po' quella l'atmosfera che vogliono evocare e ci sta tutta per quanto per quanto mi riguarda ci sta tutta quindi chi lo sa staremo a vedere secondo me potrebbe essere interessante mi sbaglierò ma potrebbe essere interessante fatemi sapere voi cosa ne pensate perché io in questo trailer ho visto tante cose che mi sono piaciute e che mi hanno riportato indietro nel tempo sì l'atmosfera dei film di Ghostbusters secondo me in questo trailer è perfettamente visibile si vede tanto di vecchio ma anche qualcosa di nuovo e questo mi piace quindi vi abbraccio grazie per aver guardato tanto ma tanto bene e noi ci vediamo al prossimo buon vlog ciao a tutti